Sette persone intossicate da fumo per un incendio in un edificio abitativo a Valle del Vingone di San Giuliano nei pressi del casello autostradale di Arezzo. Sono state portate in ospedale per controlli precauzionali. Fra esse una bambina di otto anni, ma le condizioni di tutti non destano preoccupazioni. A quanto hanno detto i vigili del fuoco, la combustione si è sviluppata in alcune suppellettili di plastica nel sottoscala pian terreno. Il fumo ha annerito i muri ed è giunto fino al terzo piano penetrando negli appartamenti. È scoppiato un incendio, è salito il fumo sulle scale, prima si è avvertito l'odore, è stato allertato subito i vigili del fuoco e alcune persone sono state portate in ospedale per accettamenti, come mia mamma. Sembrerebbe che l'origine del fuoco sia partita dai passeggini che erano presenti sotto la scala principale. Tempestivo l'intervento dei vigili del fuoco di Arezzo che hanno rimesso in sicurezza la situazione. Altrettanto tempestivo l'intervento delle ambulanze e delle pubbliche assistenze per portare in ospedale gli intossicati.